Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, 7 e 10 minuti, martedì 7 maggio, benvenuti nell'impero di Good Morning Milano, l'impero colpisce ancora noi qui ogni mattina il vostro piacere quotidiano, anzi voi siete il mio piacere quotidiano, coloro che tutte le mattine mi ascoltate, ci ascoltate, ci fate compagnia, grazie, 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 siete il nostro piacere quotidiano. Tutte le mattine dalle 7 alle 9 qui su Good Morning Milano e poi 3317853555, il numero con cui potete colloquiare con noi, interagire, scriverci, insomma fare quello che volete, quel numero è vostro, fatene buon uso e ogni mattina ne fate con tanti messaggi e tante interazioni che ci piace tanto tenere con voi, ci fate compagnia, siete veramente, ripeto, il nostro piacere quotidiano. È bellissimo ogni mattina poter essere qui con voi, aprire le porte del nostro studio e soprattutto grazie per aprire le porte delle vostre case, per farci entrare ogni mattina la vostra routine quotidiana, ogni mattina questi piaceri, il nostro piacere, il nostro piacere che si uniscono in una mattinata insieme. Siamo la colazione di ogni mattina, siamo la partenza di ogni mattina perché qua vogliamo stare, almeno io voglio stare tutte le mattine qui con voi. Non vorrei essere da nessun'altra parte, non vorrei per nessun motivo al mondo andare chissà dove, essere da qualche altra parte. Per nessun motivo al mondo vorrei essere altrove, solo qui, non altrove. Altrove, altrove, Morgan, altrove, ma da nessun'altra parte vorrei essere se non qui con voi ogni mattina per raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città. Io credo che comunque questa qui di Morgan sia una delle più belle canzoni della storia della musica italiana. Basta l'ho detto, è proprio un volo altissimo, cioè io non so, non riesco a non farmi emozionare ogni volta che sento altrove di Morgan, che so che ogni tanto riusciamo a farvi ascoltare, insomma è una dei miei must, quindi vado sempre a piangere dall'ufficio programmazione a chiedere se si può avere ogni tanto la mattina, quindi grazie di avermela messa in apertura, grazie mille all'ufficio programmazione. 7.17, martedì 7 maggio, tutto un 7 in questo momento, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, c'è un 7 anche nel nostro numero di telefono per il Whatsapp. Perché vi do il numero di telefono? Perché è arrivato il Whatsapp di Alberto. Buongiorno Cristallini, buongiorno Fabio, una nuova giornata a inizio e per ora senza la pioggia prevista per oggi. Alberto, ti do la brutta notizia, a San Siro già piove. E quindi in zona Navigli non piove, qui già piove, quindi sta arrivando. In realtà vedo qua davanti a me i vari siti di meteorologia, quelli con il, quelli senza, quelli col punto, senza it, o con it, decidete voi quale volete. Comunque fino alle 8 da pioggia moderata, anzi fino alle 7 e mezza deboli, quindi fra poco è, alle 8 modeste, alle 14 consistenti e alle 20 forti. Per poi alle 23 tornare moderate e soprattutto alle 2 di notte assenti. Quindi, prepariamoci una grande, eh, ho paura, prepariamoci alla bomba d'acqua, è questo il dramma, sembrerebbe. 11,2 mm previsti alle 8, contro i 1,4 mm previsti alle 8 del mattino. Quindi stasera alle 8, 11,2, questa mattina 1,4 previsti come millimetri. 20 deboli per fortuna, quindi almeno quello non dovrebbe esserci la combo vento e pioggia, però sicuramente non aiuta. Quindi stiamo un po' all'occhio, stiamo un po' all'occhio. Per fortuna non c'è lo sciopero dei mezzi oggi che invece c'è stato ieri, ieri che ha visto, soprattutto nel pomeriggio, un po' più di coinvolgimento dal punto di vista delle linee chiuse, perché dalle 18 sono state chiuse la M1 e la M2, che quindi ha messo un po' insomma al suo quadro la città, ma soprattutto, come sempre, aveva molti rallentamenti nelle linee di superficie che però hanno funzionato quasi tutte. Quindi insomma, come sempre il mio consiglio, quando sono gli scioperi, prendete i mezzi di superficie, fate prima. M1 ed M2 chiusa, stranamente per una volta la M4 e la M5 sono rimaste aperte. Stranamente, di solito qua le chiudono in un attimo, perché appunto, come vi ho già raccontato altre volte, basta poco per chiuderle, quindi basta pochissima gente che fa lo sciopero e a quel punto, se sono in turno su quella tratta, se sono in turno su quella linea, la linea viene chiusa perché non c'è la gestione da remoto, diciamo, non è che c'è uno su Zoom che fa funzionare la M5 e la M4, so che voi adesso, se è remoto, andate subito ad accendere il computer e fate una call, non è quello. Però il controllo della M4 e della M5 sapete essere appunto dalla sede centrale, dall'headquarter, dalla stazione di gestione di tutte le linee automatizzate e bastano pochi operatori. Non sono mai stato, anzi mi piacerebbe andarci un giorno, adesso proviamo con ATM a vedere se possiamo andare a vederla. Ma mi piacerebbe capire quanti sono più che altro, però appunto non sono tanti, quindi quando c'è lo sciopero il rischio è che appunto se quello che fa lo sciopero era in turno nel centro di controllo della M5, la M5 a quel punto è senza controllore, senza guidatore remoto, diciamo, e quindi si fa lo sciopero. Per fortuna questa volta non è successo, anzi, M4 e M5 aperte, chiusa invece, per fortuna per noi che stiamo a San Siro, ma un po' meno per tutta la città, la M1 e la M2, le più importanti linee milanesi, sono state chiuse, e invece quello, insomma, porta un po' di confusione. C'è la pioggia in arrivo, le minacce della grande pioggia in arrivo, chissà come hanno reagito i milanesi questa mattina quando sono usciti di casa. Con la macchina, con i mezzi, non lo so, lo chiediamo a Luce Verde che ci dice com'è il traffico in questo momento. I police con every breath you take. Io lo leggo giusto, ma poi però parto in tromba e lo leggo sempre sbagliato il titolo della canzone. Devo fare qualcosa per questa roba qui, devo chiedere a quelli bravi come fanno, perché faccio sempre casino ogni mattina. Comunque, attenzione, vado a leggere da Repubblica Milano la notizia del secolo per molti a Milano, perché in corso Buenos Aires parte il cantiere per trasformarlo in boulevard. operai da giugno, poi lavori a blocchi, oltre un anno per allargare i marciapiedi, che poi, detto così, ma sono già belli larghi i marciapiedi di Buenos Aires, ma attenzione perché il primo tratto interessato tra Lima e Piazza Argentina sarà quello, poi i residenti dicono ovviamente che sono preoccupati per il traffico. Entro la fine del 2025 il corso Buenos Aires diventerà il boulevard di cui si parla da tempo. marciapiedi più larghi, siepi e alberelli, tra cui scolorà la pista ciclabile che sarà tinta di rosso. E quindi siamo, dice appunto Repubblica, siamo ormai ai blocchi di partenza per il rest training. Non è che sarà tutto cantierizzato il corso, ma si farà appunto a blocchi, pian pianino ci si sposterà avanti, mano a mano. I primi cantieri saranno quelli tra Lima e Piazza Argentina e chiuderanno l'area dei marciapiedi tra via Ponchielli, via Scarlatti e via Piccini. Poi per fasi successive si procederà verso Oberdan e alla fine si farà il primo tratto verso Piazzale Loreto. Quindi il primo pezzettino di Piazzale Loreto sarà l'ultimo che si farà. Si parte da Lima, si va giù verso Piazza Argentina, si va giù verso Porta Venezia e poi si torna indietro. Attenzione però perché c'è il tema Piazzale Loreto. Lì deve partire fa un po' il cantiere anche di Piazzale Loreto. Quindi cosa succederà? Che ci sarà il momento in cui quando torneremo a fare l'ultimo tratto di Loreto Argentina sarà in concomitanza del cantiere di Piazzale Loreto? Questo sarà un problema. Infatti c'è un po' questa paura. Non dovrebbero in teoria, perché anzi lo mettono all'ultimo posto proprio perché dovrebbe partire. Però sa di fatto che insomma non sarà minimamente semplice la gestione. Aspettiamoci un paio d'anni, secondo me così a naso, di grande grande traffico intorno a Piazzale Loreto. Corso Buenos Aires, fate un'altra strada che vi conviene. Apnea con Emma alle 7.35 minuti. Cristian Radio ben ritrovati, ben ritornati. Sempre qui con tanti giornali davanti a noi. Anzi, voglio parlarvi di un concertone. Un concertone che ci sarà in Piazza Duomo. È il concertone di Radio Italia appunto del 15 maggio. Ecco, allora chi lo sa, magari non tutti lo sapete, allora voglio dirvelo. Io sono stracontrario ai concerti in Piazza del Duomo. Nel senso che sono passato domenica e già c'era il palco montato. Quindi hanno montato praticamente tutto, quindi piazza occupata da un privato che ha deciso di farci una festa. Benissimo, perché poi dopo c'entrano tanti milanesi, quello che volete. Nonostante ci sono delle norme assurde per la sicurezza, tra cui il doversi registrare, preregistrare sul sito della radio, non la nostra, quell'altra. Bisogna preregistrarsi così che si possa avere l'accesso alla piazza. Ma io trovo questa cosa davvero assurda, perché ci viene presa in ostaggio questa piazza ormai da chiunque. Piazza Duomo ormai è quasi impossibile vederla vuota. C'è sempre qualcuno, adesso non ce l'ho su con Radio Italia o col concerto di Radio Italia. Il concerto di Radio Italia è solo l'apice, secondo me, di quello che succede in quella piazza e che non dovrebbe succedere in quella piazza. Cioè, secondo voi è normale, dittemelo anche voi, 3317853555. Secondo voi è normale che uno viene a Milano, spegne dei soldi come turista, così arriva e in piazza Duomo trova un palco immenso che gli occupa metà piazza, che se fai la foto al Duomo fai la foto anche al palco, che se vuoi andare al Museo del Novecento manco lo trovi perché è dietro a questo palco, che trovi delle colonne, si stanno costruendo delle sorti di colonnine fatti in tubi in mezzo alla piazza che sono quelle su cui monteranno le luci, le telecamere e tutto. Cioè, ma è normale. Ma soprattutto, quello che dico io, non c'è un altro posto a Milano dove poter fare queste cose. È quello che a me dà fastidio. Non il concerto in sé. Anzi, anzi, benvengano mille concerti di tutte le mille radio che ci sono a Milano. Guardate, ve lo facciamo anche noi di Cristal Radio, se volete citate un posto decente dove farlo. Ma non è quello. Cioè, il concetto è, ripeto, non è solo un concetto da radio, è il concetto da radio e poi la roba del basket e poi è la roba... Cioè, ogni cosa c'è qualcosa in Piazza del Duomo che fa la sua festicciola. Allora, finché sono gli alpini, i vigili urbani, la polizia, lo capisco, no? Finché sono questo tipo di commemorazioni lo posso concepire, anzi ha senso farle in Piazza del Duomo. Ma l'intrattenimento, soprattutto sponsorizzato, soprattutto dei privati, direi che prendete e andatevi all'altra parte. Ci sono tante piazze, capisco che la Piazza Duomo è... Oddio, tutti vogliono andare in Piazza Duomo, che chissà quanti soldi danno la città. Ecco, soprattutto questo, ma chissà quanti soldi danno la città, non lo so quanti. Quindi ditecelo bene quanti soldi danno la città. Veramente questa cosa qui funziona e serve a tenere le casse del comune piene? Non credo proprio. Credo che si potrebbe benissimo fare qualsiasi cosa in un'altra piazza. Anche perché, scusate, se non do il Piazza del Duomo ma do un'altra piazza, cosa fa questa radio? Va a farsi il concerto a Firenze, a Roma? Non credo, dai, sinceramente. Quindi, soprattutto, se non andiamo a nessuno quella piazza lì, nessuno la chiede più. Io ce l'ho veramente soltanto con questa cosa di Piazza del Duomo, perché credo davvero che sia un sequestro di questa piazza ai cittadini che invece vogliono utilizzarla per viverla. E visto che è la piazza di tutti i milanesi, e non solo di quelli che potranno preregistrarsi sul sito per seguire il concerto, e non solo quelli che potranno vederla nel giorno in cui smonta un evento e ammonta un altro evento, insomma, io credo che sia una città che ha tante piazze, potrebbe dare queste altre piazze agli eventi che ben vengono, appunto, ripeto, ma che non devono essere fatti lì, soprattutto anche nel rispetto dei turisti che vengono nella nostra città. E vabbè, vabbè, adesso archiviamo la questione concertone di Piazza Duomo, anche se comunque mi fa innervosire, anzi, ditemi voi cosa ne pensate, 331-78-53-555, a voi sembra normale dare così questa piazza praticamente ogni weekend, ma anche non solo di weekend, a chiunque ne faccia richiesta, pagando tutto quello che volete, non mi interessa quello, però così, appunto, sequestrando questa piazza ai milanesi, a tutti i turisti che vengono a Milano per vedere una delle piazze forse più belle del mondo, che non tanto la piazza in sé, ma quello che c'è intorno, soprattutto il Duomo di Milano. Avete mai pensato veramente che cos'è il Duomo di Milano per quella piazza? Cioè, avete mai pensato a quella piazza senza Duomo di Milano? O con una chiesa qualsiasi? Cioè, sarebbe una piazza qualsiasi. Invece, quel Duomo lì, che tanto appunto noi milanesi amiamo, ma che ama chiunque, perché davvero non ce ne sono altri al mondo uguali. Cioè, potete andare a Notre Dame, è bellissima, ma non è il Duomo di Milano. La Cattedrale di Orlì, bellissima, ma non è il Duomo di Milano. San Pietro, bellissimo, ma non è il Duomo di Milano. Cioè, come il Duomo, veramente c'è quasi niente. Non ce ne sono altre così al mondo. Cioè, è un unicum, capito? E noi ci mettiamo davanti il palco del concerto, la tenso struttura della Valtellina, dei formaggi a Natale. Ma ecco, cioè, a Natale ci può anche stare che ci metti i mercatini. Non è un po', cioè, nel senso adesso, sapete che io non sono amante di queste cose, però ci sta. Ma ripeto, mettere tutto questo bailame in piedi, non mi dà. E poi, soprattutto appunto, perché poi, io voglio capire, tutti questi soldi servono a qualcosa? Sicuramente non, e mi aggancio all'articolo che sto andando a leggere su Repubblica, non a sistemare le scuole milanesi. Perché la scuola elementare di Via dell'Arcadia è inagibile. 230 bambini spostati altrove. Non è la canzone di Morgan che mi ha sentito prima. E soprattutto questo mi fa ridere. E al trasloco partecipano genitori e insegnanti. Pensate, manco i soldi per fare un trasloco. Le 11 classi sono state spostate in altri due plessi del comprensivo in zona Gratosoglio. Il presti dice, solette dichiarate non a norma, non c'è rischio di crolli, ma l'irregolarità va sanata. Com'è possibile che ci sia una scuola che era aperta fino a ieri, dove le solette, cioè il soffitto, perché questa è la soletta, anzi gli spazi tra un piano e l'altro, sono dichiarate non a norma? Cioè io questo non capisco, davvero. Siamo veramente ormai all'assurdo. E questa cosa peggiorerà sempre perché non mi sembra che di scuole ne stiamo costruendo 200 al giorno. Sì, ogni tanto ne salta fuori uno o due, credo ci siano sette in tutta Milano, adesso quelle che stanno vedendo la luce o hanno visto la luce negli ultimi tempi. Ma quante scuole elementari ci sono che sono vecchie e mai messe a posto, ma soprattutto così vecchie che ovviamente adesso cominciano ad andare fuori norma. Ma la domanda è, uno, le norme sono fatte bene o cosa? Perché poi non capisco, non c'è il rischio di crolli, ma non sono a norma. Allora, meglio essere cauti ovviamente sul tema. Però capite che è complicato così, anche perché ci troveremo con sempre più scuole così. E adesso soprattutto verrà sanata questa irregolarità. Quando? Quanto tempo rimarrà chiusa la scuola elementare divide l'Arcadia? Perché questa è la paura. Perché poi uno, io sono uno che non è negativo su queste cose. Io ci credo molto e credo molto nella politica. Chi si dia e si dà da fare. Però poi vedi i risultati a volte e trovi delle situazioni che no, adesso chiudiamo una settimana per mettere a posto qualcosa e poi rimane a chiusare otto anni. Vi faccio un esempio, proprio piccolo piccolo. Via Montebaldo, a un metro e mezzo dallo stadio di San Siro, ok, praticamente, c'è un campetto da calcio, bellissimo poi, perché era una sorta di piccolo San Siro in cui i bambini giocavano a calcio durante le partite a San Siro. Quindi pensate che il tifo, voi siete dati i cori allo stadio e pensavi che fossero per te che giocavi nel parchetto. Quindi è una cosa bellissima. Ecco, è chiuso ormai, credo, da cinque anni. Come la mettiamo? Cinque anni e non se ne vede la luce in fondo al tunnel. Cinque anni di chiusura, cinque anni di un parchetto chiuso, inagibile, che comunque viene comunque utilizzato dai bambini perché poi i bambini non li fermi dove vogliono andare, loro vanno e giocano. E ti dico anche, fanno bene. E questo era Noemi con Glicine alle 7.50 sempre qui in diretta con voi su Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus l'applicazione per iOS Android e il sito internet. Questo è Good Morning Milano vi ricordo che potete anche riascoltarci tutti i giorni con il nostro sito internet goodmorning.milano.it il posto podcast su Spotify in cui potete trovare tutta la nostra puntata ma anche i vari pezzettini che compongono, no? Quindi, non so, Poletti e un buon lavoro di Filippo Poletti del lunedì e poi abbiamo il giovedì l'abitudine del teatro i nostri ospiti come quelli che verranno oggi a trovarci qui con noi i vari collegamenti telefonici ieri avevamo ad esempio il Bus Theater che ci ha raccontato del suo bellissimo spettacolo fatto a Milano appunto ieri sera in zona isola insomma, tutti i giorni davvero tante informazioni che potete portarvi a casa così per vivere al meglio la nostra città in modo che possiate vivere Milano e conoscere Milano e insomma come si dice come dice sempre i milanesi non conoscono Milano beh ecco noi cerchiamo di mettere una toppa mettere una toppa a questa falla ci proviamo almeno cerchiamo di farvi conoscere un po' Milano il problema è che le notizie di Cardivalo non sono sempre le più positive ad esempio l'ultima di un ennesimo sequestro di un cantiere edile a Milano Corriere della Sera dice Milano ha sequestrato il cantiere di via Le Pontina la procura dice violate le norme urbanistiche il progetto prevedeva adesso vediamo come andrà avanti la demolizione di un fabbricato di due piani per fare un posto a un palazzo di 22 metri non capisco perché facciamo prima parliamo di piani poi di metri uno dice quindi ho fatto il conto sono sette piani più o meno se fate tre metri a piano settembre 321 quindi insomma fa sette piani facciamo sei calcolando il tetto la soletta i pannelli solari che vengono messi sopra beh da due piani a sei piani la differenza non è male quello che non capisco è però la foto che c'è sul Corriere della Sera perché c'è una foto di un palazzo di quattro piani quindi non c'è la foto di uno di due quindi non ho capito bene che cosa che cosa significhi questo sta di fatto che invece la Guardia di Finanza di Milano su richiesta da Procura di Milano ha sequestrato l'intera area dei cantieri di Via Lepontina ai civici 7-9 nel quartiere Punto Isola di Milano per lottizzazione ed edificazione abusiva l'indagine coordinata dal PM Marina Petruzzella riguarda il progetto di demolizione di un presistente fabbricato di due piani addibito ad uffici e laboratori e costruzione di un nuovo edificio residenziale a torre di 7 piani 21,95 metri per 61 61 61 appartamenti insomma non pochi il progetto sta approvato dal Comune di Milano come ristrutturazione quindi con la scia invece come nuova costruzione e ha comportato secondo l'ipotesi della Procura plurime violazioni della normativa urbanistica una quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione ed un illecito aumento delle cubature e delle superfici realizzabili senza la predisposizione oltremodo di una quantificazione urbanistica che prevedesse un palazzo del genere 9 in questo momento gli indagati tra cui anche il dirigente e due responsabili dello sportello unico per l'edilizia e allora i presidenti della commissione comunale per il paesaggio che avrebbero appunto omesso di rilevare la difformità del progetto in base al PGT vedremo come andrà a finire qua secondo me andrà a finire tutto in niente perché c'è stato proprio un problema di regolamenti io credo che sia questo adesso va benissimo abbiamo sempre tutto i su con i palazzinari quello che volete e tutto ma qui c'è qualcosa che è stato storto perché sempre di più sono i cantieri fatti così a Milano e c'è qualcosa andato veramente storto quindi che si vada avanti a indagare che si vada avanti a capire che cosa è successo ma soprattutto si capisca a livello politico che cosa diavolo è successo in questi regolamenti perché c'è qualcosa che non funziona dobbiamo metterci mano se no qui andiamo avanti ancora così i duran duran con the wild boys e così è un attimo che si torna a mangiare panini su Corso Viettore Emanuele è così il mondo dei paninari entra di prepotenza con il Crystal History delle 8 qui su Crystal Radio Good Morning Milano sono le 8 e 10 minuti in questo istante e diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi Roberta Lamberto buongiorno consigliera buongiorno Fabio non mi devi lassare sono assessora ma sei stata eletta tu come consigliere poi sei abbastanza assessora giusto ok mi ricordo bene infatti no no appunto assessora del municipio 7 di Milano che ci viene a raccontare un'iniziativa che in realtà appunto prima ne parlavamo c'è già da tempo però finalmente ho riuscito a ufficializzarla per bene con tutti i crismi e magari anzi chissà magari portarla anche all'estero cioè in un altro comune milanese in un altro comune italiano però comunque va bene è il nostro sogno è il nostro sogno progetto sollievo di cosa stiamo parlando Roberta? stiamo parlando intanto dei centri di urni disabili CDD così la breviamo non si conoscono in realtà queste strutture se non per gli addetti ai lavori però sono dei centri importantissimi per i comuni perché prendono in carico le persone con disabilità dai 18 anni ai 65 perché prima o poi la scuola dell'obbligo finisce e i genitori si ritrovano o i caregiver ma tendenzialmente sono i genitori con le persone con disabilità appunto appunto in casa che dovrebbero continuare a proseguire in un percorso noi siamo fortunati in municipio 7 io qui gioco in casa ne abbiamo 4 ne abbiamo 4 e la particolarità è che non sono tutti del comune di Milano perché ne abbiamo 3 convenzionati quindi come se fossero dei privati e uno invece ha diretta gestione del comune di Milano quindi anche qui partnership pubblico privata si va sempre a ritmi diversi è stato un po' un lavoro da direttore d'orchestra ecco perché tutto nasce da una richiesta in realtà singola che ti è arrivata che ti ha aperto però un mondo esatto da una richiesta che pensavo singola perché mi è arrivata singola da parte della mamma di una persona di un ragazzo con disabilità che poi chiaramente era un po' in realtà portavoce di tutti i genitori di questi centri diurni disabili e l'istanza era molto semplice quanto toccante e cioè i vostri giorni più belli ferragosto natale le ferie insomma per noi sono un macigno perché il centro chiude il centro chiude e dateci un po' di sollievo e da qui anche la parola chiave progetto del sollievo e che cosa sei riuscita quindi a mettere in piedi diciamo in questi tre anni fa che aveva questa richiesta eh sì tre anni al 2021 già c'era un po' un qualcosa nell'area nel municipio 7 perché appunto abbiamo tutti i genitori di centri diurni disabili che sono molto attivi nel far valere le loro istanze e il ragionamento è stato proprio di creare questo progetto del sollievo quindi in quei giorni in cui il centro sarebbe chiuso eh appunto durante il periodo natalizio piuttosto che estivo finanziare nella loro totalità delle vacanze per per le persone con disabilità e quindi poi ci siamo ritrovati anche a vedere dei video magari con persone di 40 anni che per la prima volta sono riuscite ad andare al mare e i caregiver che riuscivano ad avere un po' di un po' di sollievo perché c'è un tema che è un po' l'elefante nella stanza quando si parla di disabilità e cioè il lavoro di cura il lavoro di cura è un lavoro totalizzante spesso i genitori vengono annientati io sono rimasta molto colpita oltre a queste vacanze noi ogni due mesi teniamo ospitiamo una conferenza e il tema ci viene richiesto proprio dai genitori di questi centri ed è una cosa importante a volte si fanno queste conferenze se no dall'alto calate dall'alto non viene nessuno invece quando abbiamo chiesto i temi prima di tutto ci siamo ritrovati davanti a temi che non avremmo mai trattato la sessualità per le persone con disabilità che cosa significa essere fratello o sorella si parla sempre di genitori e proprio quando abbiamo trattato questo tema spesso troviamo persone ho ritrovato il mio compagno di banco del liceo non sapevo nemmeno a essere un fratello con disabilità che ci diceva noi siamo una persona prima di essere chi si prende cura della persona però se non abbiamo tregua noi ci annientiamo e quindi il sollievo vuole un po' permettere una ricarica ecco allora adesso sarò scontato ma ovviamente dobbiamo andare con un po' di musica e ho scelto Gali ovviamente parlando del municipio 7 giochiamo in casa sarò scontato ma mi sa che qualsiasi radio vai Roberta questo ti porti dietro o rondo quando credo non ce l'abbiamo nel database mi auguro no scusate no l'ho detto scusate scherzo però poi torniamo ancora qui perché appunto voglio capire bene poi oggi appunto ho fatto una presentazione e poi anche quali saranno gli step successivi di questo progetto importantissimo appunto del municipio 7 con progetto sollievo Gali con casa mia 817 minuti Crystal Radio Good Morning Milano 3317853555 il numero a cui potete scrivere i vostri whatsapp condividendo la vostra mattinata con noi siamo qui con l'assessore Roberta Lamberto a parlare appunto del progetto sollievo che appunto diciamo ha tre anni ma in realtà adesso vede la sua ufficializzazione a tutti gli effetti e chissà anche cosa poi però sarà in un futuro prima di tutto oggi cosa succede per ufficializzarlo diciamo e oggi l'emozione è tanta perché si arriva alla firma del protocollo della rete del sollievo praticamente impegniamo le parti della rete del sollievo della rete del sollievo quindi abbiamo i quattro centri di urni disabili tre convenzionati e uno del comune di Milano la direzione welfare del comune di Milano ci saranno l'assessore Bertolè e l'assessora Romani perché ha la partecipazione e ci ha dato una grande mano in questo progetto e il municipio 7 un po' da cabina di regia da capofila e così ci impegniamo e lo formalizziamo l'obiettivo è molto semplice prima di tutto nella scala milanese che dall'anno prossimo anche gli altri otto municipi mandino avanti il progetto del sollievo e in realtà iniziando a parlarne così sui social sono anche stata contrattata da altre città proprio centro Italia erano molto molto interessate quindi l'obiettivo è che diventi un po' diciamo un buon esempio da seguire noi lo sappiamo questa tematica qui è in capo a regione Lombardia il che un po' chiaramente lega le mani da parte soprattutto del comune e di conseguenza dei municipi la nostra istanza è semplice con della volontà e un po' di coraggio amministrativo si può comunque fare la differenza perché questo che voi dimostrate e che non so quanto ad altri possa far piacere anche che è vero che magari appunto c'è una regione che non vi aiuta c'è altre entità che non vi possono aiutare ma voi vi la siete cavata da soli questa è una cosa molto importante io approfitto per dire una cosa io due settimane fa ero sotto regione Lombardia con l'EDA e le altre associazioni della disabilità che dopo 12 anni sono tornate in piazza a manifestare non succedeva da 12 anni è successa una cosa molto grave e cioè regione Lombardia ha deciso di tagliare i fondi per la B2 e la B1 quindi la disabilità gravissima su un bilancio di 3 miliardi tolgono 10 milioni sono cifre con cui facciamo un po' difficoltà ad approcciarci allora la dico semplice su uno stipendio di 1200 euro al mese 1500 euro vuol dire che io non trovo 41 centesimi per la disabilità questo è un tema e invece e ho rubato un po' diciamo un esempio di un mio collega del Partito Democratico quello che il Municipio 7 in maniera molto chiara e concreta vuole dire è che noi su questa tematica non abbiamo risorse infinite ma se la disabilità per noi è una priorità allora le risorse si indirizzano lì e per il Municipio 7 la disabilità è una priorità assoluta e questo è interessante perché appunto fa capire come i municipi che spesso non hanno poteri ed è vero non avete non avete soldi ed è vero però come dicevi con un po' di coraggio con un po' di intelligenza anche nel far poi parlare le parti tra di loro insomma si riesce a fare delle grandi cose i municipi che insomma adesso vabbè usciamo un attimo non è che stiamo vivendo un bel momento in questo momento in questo momento possiamo dirlo tu non stai percependo uno stipendio in questo momento sì purtroppo la situazione è complessa sì le giunte al Municipio quindi non solo io ma anche i presidenti i presidenti i assessori i municipi non stanno percependo e voi direte ecco gli sta bene i politici che guadagnano sempre tanto non è così perché il Municipio tu Roberta facevi un altro lavoro o studiavi non mi ricordo perché tu sei molto giovane io studiavo e facevo un altro lavoro appunto hai lasciato il tuo lavoro per fare questo anche come lavoro sappiamo che non è solo una missione ma per fortuna viene anche pagato e remunerato ma in questo momento no quindi adesso non vi dico di fare l'SMS solidale per l'assessora però fa capire come il tema veramente della politica soprattutto di prossimità quella del del iperlocale come il Municipio viene distrattata anche perché il lavoro secondo me riaggancia un concetto molto importante che è sancito anche tra i nostri diritti ed è la dignità del lavoro che passa anche dallo stipendio e allora andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo perché parliamo invece di belle iniziative che tutti gli anni proponi per il Municipio 7 e anche quest'estate diciamo non rimarrete da soli anzi prendo un vecchio slogan del Comune di Milano estate con noi mi piaceva tanto mi piaceva Mahmood tuta gold alle 8 e 25 minuti ancora qui con l'assessora Roberta Lamberto stavamo parlando appunto delle iniziative che però ci saranno anche nei mesi prossimi in Municipio so che parlarne oggi sembra un po' strano ma siamo comunque all'inizio di maggio l'estate alle porte ma non sembra in questo momento le delibere vanno deliberate ma di voi dovete essere un po' in anticipo sul tempo ma avete deliberato che cosa per quest'estate sì terza edizione di Una Comunità Animata un progetto a cui tengo tantissimo si parla di educativa di strada detta in parole semplici animazione nei cortili delle case popolari del nostro municipio quindi a Baggio siamo su Via Quarti e qui siamo nel quadrilatero San Siro dove se no proprio dentro i cortili quindi a Biati Zamagna i pomeriggi ci sarà Equa che farà appunto animazione l'inaugurazione come al solito circense quindi faremo un bel corteo per richiamare tutti i ragazzi e le ragazze ci teniamo molto intanto ringraziamo il nostro partner che è Ains che appunto finanzierà il progetto si riescono a fare come municipio delle cose coraggiose come il progetto sollievo perché c'è chi sponsorizza altre progettualità se no tutto sarebbe sarebbe impossibile dovremmo volare un pochino un pochino più basso ti faccio una domanda tecnica non sono quelli legati però necessariamente Ains poteva non farlo questa cosa non sono gli oneri di urbanizzazione cose del genere perché questo è interessante va detto che effettivamente queste Ains hanno un bilancio di sostenibilità quindi chiaramente hanno dell'interesse però potrebbero fare un murales fare e invece che cosa hanno fatto sono venuti hanno parlato con la municipalità e hanno chiesto cosa interessa veramente al quartiere la risposta è stata questa che i bambini e le bambine delle case di edilizia residenziale pubblica che non partono per le vacanze estive lo sappiamo che non partono non rimangano da soli e quindi si finanzia un qualcosa di vero e di concreto è una bella iniziativa appunto di privato che finanzia qualcosa di pubblico senza farlo appunto dall'alto della sua torre d'avorio ma parlando con le istituzioni quindi ogni tanto si può parlare con voi allora si può parlare con noi io ci credo molto in questo tipo di sponsorizzazioni e penso che siano anche dei modi per abbattere un po' quei muri invisibili le nostre periferie li hanno il quadrilatero San Siro è come circondato a dei muri invisibili e questi progetti tentano un po' di abbatterli ormai quant'è che sei assessora Roberta? eh giochiamo sui tre anni a settembre ottobre come sta andando qual è il bilancio per adesso dai raccontiamo dimmi un po' siamo in chiusura ma un minutino qualcosa sul bilancio finale qual è secondo te? è sfidante è sfidante la macchina della pubblica amministrazione è tosta secondo me bisogna ricordarsi tutti i giorni perché l'hai fatto io l'ho fatto per il quadrilatero San Siro c'è qualcuno appunto che noi abbiamo una trasmissione si chiama ma che razza di umani facciamo una domanda a tutti i volontari che troviamo chi te lo fa fare? anche mio padre me lo chiede molto spesso chi te lo fa fare a te Roberta? eh a me quei quattro pezzi di città dimenticati un po' da tutti Roberta Lamberto assessore municipio 7 grazie mille di essere qua con noi buon lavoro andiamo avanti con un po' di musica poi ritorniamo qui per i saluti finali l'ultima mezz'ora di trasmissione insieme e seguite comunque appunto il progetto sollievo ma poi anche tutte le varie iniziative le trovate sul sito del municipio sui social dell'assessore Lamberto insomma trovate tutto quello che volete e magari a volta buona che vi appassionate anche un po' la politica che insomma magari ce ne sarebbe bisogno quando la politica fa qualcosa di buono è sempre bello parlarne è sempre bello avere qui le persone che i protagonisti che fanno appunto della buona politica in città grazie mille ancora l'assessora andiamo con la musica loro sono i Toto con Africa e questi sono gli Abba con Gimme 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 alle 8 e 39 minuti martedì 7 maggio sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano ben ritrovati all'ascolto grazie dei vostri Whatsapp al 331 7853 555 continuiamo a leggere dai giornali perché su Repubblica Milano nasce o meglio viene raccontato il progetto Grattosoglio Skate Park o meglio rinasce lo Skate Park in via Saponaro un maxi murale orizzontale quindi verrà disegnato e colorato sulla pavimentazione dello Skate Park per celebrare il quartiere e lo sport da vivere insieme 17esima tappa del progetto un nome in ogni quartiere l'opera realizzata in collaborazione con i skater della zona fateci un occhio su Repubblica c'è questo bellissimo articolo le foto sono molto molto interessanti perché voi volete immaginare uno Skate Park è fondamentalmente una grande vasca di cemento con delle piccole dune concave o convesse su cui appunto con gli skate o con i roller vi divertite andare su e giù tutto questo colorato con delle macchie di colore molto bello appunto un murales orizzontale spero a prova di rotelle perché se no qui va a finire che nel giro di una settimana ci salutiamo il murales ma sicuramente sarà stato fatto a prova d'arte e appunto è una dell'ennesima tappa di quello che appunto oggi alle 17 si vedrà l'inaugurazione di questo Skate Park anzi quello che in realtà vengono chiamati Skate Bowl perché è una bowl non è un par che basta e appunto questa opera d'arte pavimentale realizzata da Giulio Vesprini nuova tappa del progetto un nome in ogni quartiere 17esima tappa ma anche la prima realizzata grazie al contributo della fondazione di comunità Milano e la fondazione Claudio de Albertis molto bello perché davvero se andate a vedere le foto e quindi nel futuro sarà anche molto probabilmente su Google Maps con Google Arts andate a vedere da sopra adesso no al momento sicuramente che l'hanno fatto ieri quindi non è che ci sia già ma è molto bello perché questa macchia di colore all'interno del quartiere che appunto rende riconoscibile la zona il progetto ha già portato alla realizzazione di murales in 16 quartieri della città tra cui Bovisa Portello Lorenteggio Cittastudi Baggio Quartogiaro Porta Romana Gallaratese Corvetto Stadera Padova Maggiolina Dergano Cimiano Crescenzago Edaffori pensate qua nel caso del Grattosoglio non è un muro ad ospitare l'opera pittorica ma la superficie orizzontale dello skate park sulla quale appunto l'urbanista Giulio Vesprini ha impaginato campionando i colori principali dell'ambiente circostante cioè lui ha preso dei colori di quello che c'era intorno gli ha campionati e ha fatto delle macchie con i colori che richiamano appunto l'ambiente intorno allo skate park appunto dopo Grattosoglio i prossimi punti saranno Giambellino Vigentino Via Padova e anche c'è questa ricerca grazie appunto alla fondazione Claudio Alberti e alla fondazione di comunità Milano anche a ricerca di luoghi più adatti non so io propongo il tetto della radio abbiamo un bellissimo tetto qua sopra ci starebbe benissimo un bel San Siro scritto bellissimo io se volete lo do volentieri è qua pronto anzi mi do anche una mano a dipingere se volete comunque questo è una bellissima iniziativa che fa al punto ancora una volta vedere come se si vuole la città la si può migliorare la si può rendere sempre di più anche piacevole da vivere perché ricordiamoci sempre che se un luogo il luogo che noi viviamo è piacevole ce ne prendiamo cura sicuramente se il luogo è piacevole abbiamo voglia di prendercene cura e soprattutto lo difendiamo da chi quella cura non ce l'ha quindi stiamo attenti a volerlo sempre migliore e sempre più bello perché a noi ci piace alla fine è bello vivere nel bello è una cosa piacevole quindi perché no e i quartieri di Milano non sono da meno e devono anzi poter vivere nel bello tutti i quartieri di Milano andiamo avanti con la musica David Bowie Rebel 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 David Bowie chissà cosa direbbe David Bowie è altro che Rebel Rebel se leggesse questa notizia dal Corriere della Sera Milano la galleria galleria qua di Milano ok all'asta Tiffany batte Prada a prezzo record dopo due ore di rialzi 3 milioni e 600 mila euro per 174 metri quadrati ma voi siete fuori di testa dai fuori di testa la base per affittare la prestigiosa location ex Varosky nell'Ottagono era 500 mila euro era la base d'asta dell'affitto e la galleria entra così nella top 10 delle strade dello shopping più care al mondo accanto alla Fifth Avenue e a Ginza a Tokyo bene siamo contenti? no direi proprio di niente cioè questa è una bruttissima notizia di Milano non è una bella notizia perché questo poi ragazzi si ripercuote inevitabilmente su tutta la città perché se 174 metri quadrati in galleria quindi nel posto va bene più alto più in della città vale 3 milioni e 600 mila euro capite che anche se mi sposto di un chilometro due o tre avrò la ripercussione di questo prezzo così alto e non mi dite che è perché sono milioni che vanno nelle casse del comune va bene 3 milioni che vanno nelle casse del comune ma non c'entra non va bene non va bene non va bene diventiamo sempre di più una città per soli ricchi tra parentesi posso dire oltretutto nei luoghi storici della città ormai abbiamo solo griff internazionale abbiamo solo qualsiasi città al mondo ormai è identica a un'altra ogni città del mondo trova gli stessi identici negozi nelle vie principali della città e ve lo dico davvero prendete google maps google street view andate una qualsiasi via del centro di una città e vedrete che è così cioè andate da belgrado a londra a parigi a bucarest a milano troverete sempre gli stessi negozi uno di questi sicuramente tiffani ma tutti gli altri che ci sono ci sono tutti pensate adesso non sto a fare l'elenco ma pensate ne uno c'è ci sono tutti quelli lì quelli del vestiti quelli dei gioielli quelli dei diamanti tutti ci sono sempre così con oltretutto dei prezzi assurdi l'assessore al demanio Emanuele Conte dice che da quando sono partiti gli incanti nel 2018 gli incassi per il comune sono passati da 30 a 70 milioni di euro incrementando così le risorse che il comune può restituire tra i cittadini trasformandole in servizi servizi che però devono costare di più perché mi fate costare di più la città ragazzi questa è tutta una presa in giro ma non ce l'ha con l'assessore l'assessore fa il suo lavoro ci mancherebbe ma non facciamoci affascinare da tutto questo non facciamoci affascinare dal facile guadagno che arriva da così alte locazioni cioè ragazzi ma 3 milioni quant'è che è? 3 milioni e 600 mila euro per 174 metri quadrati in Galleria Vittorio Emanuele io davvero non c'è niente da festeggiare come non c'era da festeggiare il giorno che abbiamo scoperto di essere più di 1 milione e 400 mila abitanti perché non c'è niente da festeggiare se siamo così tanti in così poco spazio e senza i servizi che servono a tutto il milione e 400 mila abitanti ma solo i servizi ci sono per quelli che hanno un alto stipendio un alto reddito idem oggi non è una giornata da festeggiare non bisogna festeggiare una cosa del genere perché non va bene quindi chissà cosa succederà se adesso è quello lì e 3 milioni così quello di fianco cosa sarà fra qualche mese quando c'è un'altra locazione vabbè andiamo avanti con la musica questa è Milano e non c'è poco da fare ormai è una città per pochi che fa male a tanti 8.54 minuti martedì 7 maggio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano e fate come vi dicono Sly and Family Stone ballate sulla musica dance to the music ma soprattutto sentite questa o meglio sentite quella o meglio dopo di noi e dopo il giorno alle radio Ambrogio Curti con senti questa e vi potete ballare cantare piangere ridere insomma le emozioni sono garantite insieme ad Ambrogio in senti questa prima di chiudere voglio ricordarvi anche l'appuntamento di sabato con la maratona per il compleanno di Crystal Radio dalle 8 del mattino saremo in onda io Ambrogio Curti e tanti altri e poi una staffetta continua fino a sera con tutti gli speaker di oggi e di ieri di Crystal Radio happy birthday to you appuntamento a domani mattina alle 7 sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano grazie mille alla regia grazie mille ad Elisa alla produzione grazie davvero a tutti quanti voi che ci avete ascoltato e anche agli ospiti che sono passati qua oggi ciao a domani e e Grazie a tutti.